un nuovo mini tutorial firmato fabbiambrosi.it quest'oggi parleremo di come utilizzare e lavorare i proxy in adobe premiere pro per montare video in 4k un argomento complesso che cerchiamo come sempre di condensare in soli tre minuti quindi iniziamo subito il tema dei proxy in premiere pro è un tema complesso che è difficile sintetizzare in soli tre minuti ad ogni modo qual è il problema che stiamo cercando di risolvere io importo un file in 4k nella mia timeline di premiere pro mando in play e guardate il video va a scatti ed è complicato lavorarlo e montarlo in queste condizioni anche se avete un computer molto buono la soluzione è creare un proxy per l'appunto vale a dire una copia identica del file video che però ha una risoluzione e delle caratteristiche che lo rendono più leggero da manipolare e lavorare in premiere come si crea un proxy clicco con il tasto destro del mouse sopra la clip video nel pannello progetto di adobe premiere pro scelgo la voce proxy e ancora crea proxy viene proposta una finestra in cui possiamo scegliere diverse impostazioni il formato e il predefinito che vogliamo utilizzare ora in questo esempio utilizzerò un h264 e come predefinito sceglierò h264 low resolution proxy posso scegliere la cartella di destinazione del mio file proxy scegliendo se lasciarlo accanto al file originale o se utilizzare una cartella ad hoc io ho creato una cartella chiamata proxy in cui andrò a esportare il proxy del video che sto cercando di lavorare in premiere fatte queste operazioni clicco su ok verrà aperto adobe media encoder il file viene messo in coda e viene esportato e il gioco è fatto voi direte ma io il video lo vedo ancora scatti come fare o meglio come fare per switchare tra la modalità proxy e la modalità standard c'è un tastino che di norma non è visibile nella barra dei tools di premiere clicchiamo su questa più alla destra del monitor programma scelgo questo simbolino attiva disattiva proxy e lo trascino dove voglio clicco su ok a questo punto posso scegliere se attivare o disattivare il proxy bene apparentemente vedete cambia poco probabilmente perde un po di definizione l'immagine quando c'è il proxy attivo ma tranquilli è solo in fase di montaggio quando andremo ad esportare ovviamente utilizzeremo la versione senza proxy ma il vantaggio qual è che adesso posso lavorare il video in totale comodità e senza avere rallentamenti di alcun tipo una raccomandazione prima di salutarci quando lavorate con i proxy state molto attenti al frame rate se utilizzate la modifica del frame rate con la modifica dell'interpreta metraggio per capirci se modificate questo valore dovete stare attenti ad esportare in adobe audition il video interpretando il video allo stesso modo in altre parole i frame rate tra il proxy e il file sorgente devono coincidere altrimenti avrete degli slittamenti nell'immagine finisce anche oggi il mini tutorial firmato fabio ambrosi punto it se vi è piaciuto iscrivetevi a questo canale youtube accendete le notifiche per restare sempre aggiornati e se avete richieste particolari su tutorial specifici che volete vedere comparire in questi mini tutorial scrivete all'indirizzo tutorial chiocciola fabio ambrosi punto it per tutte le informazioni c'è il sito internet www.fabioambrosi.it c'è anche la pagina facebook cercate e cliccate fabio ambrosi ciao al prossimo video tutorial ciao a tutti ciao a tutti